buongiorno benvenuti al webinar di oggi in cui parleremo di studio di stabilità allora lo studio di stabilità è una di quelle funzionalità di minitab piuttosto diciamo verticali cioè proprio molto ben indirizzate non a uno studio statistico generico bensì proprio a casi specifici di quelle che sono le necessità di un'azienda in questo insieme di analisi oltre lo studio stabilità rientrano per esempio anche l'analisi di reliability e survival così come i test di equivalenza che sono pensati in particolar modo per il mondo farmaceutico in parte anche gli studi di stabilità che troviamo sotto il menu stat in regressioni e poi stability study anche gli studi di stabilità sono strumenti pensati fortemente per il mondo farmaceutico chiaramente non solo ma diciamo si prestano molto bene perché si usano a questi studi per studiare la stabilità nel tempo di un prodotto e chiaramente un farmaco per esempio è un ottimo esempio di quello che è il senso di questo tipo di studio infatti gli esempi che andremo a utilizzare prendendo attingendo ai worksheet preparati di di minitab riguardano proprio il mondo delle dei farmaci quando si fa uno studio di stabilità vedete che questa voce compare proprio sotto il menu regressioni minitab di fatto crea un modello lineare e lo usa per rappresentare la relazione tra la variabile risposta la variabile tempo e un opzionale fattore batch come chiamano minitab o potremmo dire fattore lotto è un lotto di produzione per tradurre questa parola batch in un qualche modo più comune a tutti che può essere è quest'ultimo fisso corrandomico vedremo bene che cosa di che cosa si tratta chiaramente come ogni volta minitab offre delle opzioni piuttosto strutturate e molto professionali quindi occorre sempre andare per modo graduale nell'apprendere e nel conoscere tutte le opzioni che lo strumento mette a disposizione ok sulla base del modello che minitab va a creare questo poi viene utilizzato per calcolare quella che viene chiamata shelf life tradotto letteralmente la vita sullo scaffale che non è altro appunto che la quantità di tempo in cui ci si può aspettare che la risposta resti entro specifiche desiderate la risposta è il fattore il la variabile che vogliamo andare a misurare perfetto allora andiamo subito a vedere che dentro al menu stabiliti stadi esistono due voci è una cosa che troviamo in più occasioni minitab ovvero minitab ci offre anche il supporto nel creare un worksheet che si presti a uno studio di questo genere quindi c'è sì lo stabiliti stadi proprio lo studio l'analisi il test che che è il vero topic della giornata ma c'è anche una funzionalità che ci aiuta a creare un foglio di lavoro in cui collezionare i dati e non solo collezionare i dati proprio anche a descrivere una procedura statistica una metodologia un iter statistico di raccolta dati perfetto adesso vedremo entrambe le cose compreso poi anche quello che è la funzione di predict cioè una volta creato il modello lineare o comunque sia il modello una volta creato il modello questo può essere utilizzato in minitab per eseguire delle predizioni su altri valori vedremo bene anche questa casistica perfetto adesso quindi andiamo ad aprire un primo worksheet di esempio ok e andremo a cercarlo nei minitab sample data folder che è quella cartella che viene creata da minitab quando è installata il programma che sia una versione licenziata piuttosto che la versione trial minitab vi offre questa cartella a cui potete accedere e rifacciamolo un attimo per completezza non da open project ok ma andando direttamente in open worksheet e facendo così noterete che nella classica finestrella di windows dove potete andare a selezionare i file al vostro file system comparirà anche una cartellina un bottoncino che vi permette andare a cercare nella minitab sample data folder che è esattamente ciò che faremo nello specifico andremo ad aprire un file che si chiama shelf life guarda caso proprio anche i nomini solitamente di questi worksheet quando possono hanno un'indicazione diretta per capire a che tipo di esempio si vanno a riferire facciamo apri minitab dice avvisa che una copia del contenuto di questo file verrà aggiunto al progetto corrente si può dirgli di non ricordare più questa cosa semplicemente fare ok ed ecco qua i nostri dati quindi come sempre guardiamo con la bottoncino info per sapere che cosa abbiamo a che fare vedete c'è un run order c'è un ordine in cui dovremmo andare a eseguire le misure c'è il mese c'è il batch che possiamo tradurre con lotto e c'è la risposta in questo caso l'esempio che stiamo andando ad affrontare è il seguente si vuole si vuole testare la shelf life quindi la stability di una pillola di un nuovo farmaco la concentrazione del principio attivo decresce nel tempo si vede che col tempo è soggiato delle reazioni chimiche o comunque si deperisce nel tempo diminuisce quindi la concentrazione e si vuole determinare quando la pillola raggiunge il 90 per cento della concentrazione desiderata del principio attivo ok quindi l'esperimento viene condotto nel seguente modo si hanno cinque lotti cinque batch e viene testata una pillola una sola pillola da ogni batch in nove momenti diversi ok quindi ora capiamo bene come è messo i nove momenti diversi sono i mesi vedete il mese zero il mese tre il mese sei mese nove dodici e diciotto per poi arrivare abbiamo detto nove mesi diversi quindi abbiamo anche il 24 il 36 il 48 i batch sono cinque morale 9 per 5 45 abbiamo 45 record perché ne abbiamo 45 perché per ogni lotto per ogni batch a ciascuno degli intervalli temporali che sono stati definiti questi mesi zero tre sei nove eccetera viene misurata una sola pillola quindi restano effettivamente batch per mesi e se avessimo più misure il numero di record in questo foglio chiaramente sarebbero di più per due sarebbero 90 eccetera vedete poi qua il foglio è già stato preparato quindi abbiamo anche già il risultato della misurazione c'è la percentuale di concentrazione del principio attivo è già stato misurato questo è il run order vedete e qua in modo vedete mischiato quindi i batch sono assolutamente in ordine casuale ok vengono riportate le misure della variabile risposta così abbiamo già dato un senso a quella che era la terminologia che abbiamo citato poco fa perfetto quindi abbiamo già i nostri dati raccolti e non ci resta che fare un'analisi di stabilità quindi andremo in stat regression stability study e prenderemo proprio la voce stability study si apre la consueta finestrella di minitab che dobbiamo andare a riempire la risposta abbiamo visto la variabile è la percentuale di principio attivo il time è il mese batch è batch facile e per ipotesi di questo esempio che stiamo facendo noi non vogliamo che il principio attivo scenda sotto una concentrazione pari al 90% quindi abbiamo una specifica inferiore che è al 90% ora qua ci sono una serie di altri bottoni per ora guardiamo semplicemente il grafico ok e gli diciamo come consueto i grafici dei residui di metterli 4 in 1 anziché fare 4 grafici separati e gli diciamo di fare gli diamo questa opzione questo semplicemente potevamo scegliere di avere un grafico per ciascun batch e siccome i batch qua sono 5 avremmo avuto 5 grafici separati oppure di metterli insieme ok e di evitare di avere oltre al grafico che li rimette tutti e 5 insieme di avere anche altri 5 grafici uno per ciascun batch facciamo ok nelle opzioni ecco vedete nelle opzioni c'è una cosa particolare rispetto a quanto siamo abituati a trovare in tutte le analisi tipiche di Minitab allora innanzitutto c'è questa voce che ci dice che il batch è un fattore fisso per ora la prendiamo per vera e ci va bene così la cosa interessante però rispetto al solito è che per questo tipo di test Minitab vi suggerisce ed è buona norma seguire questo suggerimento di tenere un alpha level di 0.25 anziché di 0.05 nonostante il confidence level sia 95 e come sempre questo ma guardate praticamente si usano i percentili in questo tipo di test e per il caso in cui il batch sia un fattore fisso notate che c'è il 50 anziché il 95 ok? ora giusto solo per notarlo poi ci torneremo sopra meglio facciamo ok facciamo ok ed eseguiamo la nostra analisi ecco i risultati come buona norma andiamo subito a vedere la sessione sessione che ci offre un bel po' di cose da andare a interpretare allora innanzitutto che cosa troviamo? c'è un piccolo riassunto che ci dice che i lotti sono di tipo fisso poi vedremo i livelli di questo fattore sono 5 e sono semplicemente 1,2,3,4,5 che non sono altro che i nomi dati ai lotti nel foglio di lavoro se qua avessimo dato altri nomi non troveremmo 1,2,3,4,5 ma troveremmo i nomi che abbiamo messo perfetto la prima cosa che viene eseguita vedete con un alfa di 0,25 con un livello di significatità di 0,25 è una considerazione in base alla quale andiamo a capire se dobbiamo considerare anche il termine misto mese per batch oppure se ci bastano i termini di primo ordine la risposta ci viene data in termini di p-value e va interpretata in questo modo siccome l'alpha level per selezionare un modello con solamente i termini di primo ordine o un modello con anche il termine misto è 0,25 in questo caso poiché i p-value sono tutti inferiori a 0,25 dovremo considerare tutti i termini infatti vedete che Minitab dopo aver eseguito questa analisi e questo test di cui ci riporta il risultato in termini di p-value ci dice che i termini che verranno considerati nel modello sono il mese, il batch e il termine misto mese per batch quindi per questo motivo noi avremo non già un solo modello di regressione bensì ne avremo 5 ne avremo 5 perché 5 sono i batch o lotti che dir si voglia e da questa analisi Minitab ci dice che il termine misto mese per batch non è trascurabile come significatività e pertanto dovremo considerarlo questo è il motivo per cui ci ritroveremo ora 5 modelli di regressione anziché uno solo comune a tutti questo è il senso di questa prima tabella e questo è il senso di questo alpha level di 0,25 è un alpha level che viene utilizzato per capire se considerare anche il termine misto oppure no esiste poi un model summary vedete che troviamo in tutti i casi in cui venga eseguito venga creato un modello quindi in tutti i casi in cui per esempio si va a fare un modello di regressione troverete sempre un model summary che riporterà queste voci S R squared e poi è una serie di altri due versioni di R squared allora S è tanto migliore quanto più è piccolo perché S dà una misura della distanza dei punti dei valori misurati rispetto al modello fittato quindi rispetto al modello di regressione che viene realizzato quindi capite che più i punti misurati i valori misurati sono lontani dal modello che li fitta e più chiaramente quel modello è una forzatura perché comunque se abbiamo una nuvola di punti e andiamo a fare una regressione lineare sì ok troveremo sempre una retta che fitta quei punti ma sarà sempre comunque una retta che passa attraverso una nuvola di punti viceversa se i punti sono tutti molto vicini alla retta fittata beh allora effettivamente possiamo subito trovare un andamento lineare e senz'altro la retta che fitta questi punti sarà più significativa questo 0,6 non è un brutto valore quindi è senz'altro accettabile tanto più che R squared che invece è tanto migliore quanto più è elevato vicino al 100% ci fornisce una indicazione di qual è la percentuale di variabilità spiegata dal modello in questo caso vedete che il modello riesce a giustificare il 92 e passa per cento della variabilità dei valori misurati e quindi sicuramente è un modello accettabile diciamo che se voi dovesse trovare un modello che giustifica meno dell'80% della variabilità ecco quel modello magari potrebbe non essere il migliore dei modelli a cui affidare le proprie interpretazioni R squared adjusted viene utilizzato qualora voi aveste più test di stabilità e voleste confrontare tra di loro i risultati dove in quel caso sarebbe opportuno andare a valutare gli R squared adjusted che vedete è un po' inferiore R squared predicted invece è il valore che potete considerare qualora utilizzaste il modello per eseguire delle prediction che è ciò che faremo in seguito utilizzando il modello andremo a fare una predizione abbiamo poi una tabella dei coefficienti la tabella dei coefficienti è interessante in particolar modo per quanto riguarda l'ultima colonna questo VIF questo termine VIF sta per variance inflation factor e è importante da valutare quando si creano dei modelli di regressione perché il VIF indica in che misura la multicollinearità sia presente nella regressione ora la multicollinearità è un problema perché può aumentare la varianza dei coefficienti di regressione e quindi renderli instabili è difficile da interpretare come valutare il valore di questi VIF ma esistono delle linee guida che ci dicono che sostanzialmente se VIF è 1 non esiste correlazione se VIF è compreso tra 1 e 5 c'è una correlazione moderata quindi è accettabile e invece se i VIF si trovano tra 5 e 10 non parliamo se siano oltre 10 allora i coefficienti sono molto i predittori sono molto correlati e in quel caso dovreste porvi delle serie domande su quello che è il modello che avete realizzato perché evidentemente è un modello che soffre parecchio delle relazioni lineari che esistono tra i predittori quindi fondamentalmente in quel caso il modello andrebbe rivisto perché evidentemente è stato utilizzando dei predittori che sono troppo dipendenti tra di loro pertanto in quel caso sarebbe opportuno individuare alcuni predittori da eliminare dal modello per evitare di introdurre troppa artificialità dovuta proprio al modello stesso quindi in questo caso noi lo accettiamo però tenete conto ogni qualvolta voi eseguite un modello di regressione attenzione a questi termini perché vanno interpretati in questo modo e per quanto il modello possa essere fittante piacevole e comunque risultare dalla vostra analisi ok se questi coefficienti risultano maggiori di 5 il vostro modello rischia di essere un modello che genera puramente numeri casuali ma non ma non può essere considerato affidabile benissimo poi abbiamo detto prima che poiché torno un po' su poiché il termine misto è un p-value che è inferiore al nostro alpha level e quindi il termine misto va considerato nel modello vedete infatti qua Minitab dice termini che vengono usati nel modello abbiamo mese batch e mese per batch ecco poiché avviene questo avremo 5 equazioni di regressione anziché una sola comune a tutti i punti ne avremo 5 perché l'interazione tra batch e mese non può essere scartata perché è statisticamente significativa e quindi in base a quell'alpha level di 0.25 e quindi noi avremo una retta di regressione per ogni batch vedete questa è la conseguenza del fatto che il termine misto è statisticamente significativo abbiamo 5 retta di regressione una per ogni lotto una per ogni batch questo è il senso di questa tabella con le equazioni di regressione a cui segue una tabella che ci segnala quelle che sono le osservazioni con dei valori un po' anomali e ci viene data anche una chiave di lettura quindi le osservazioni 11 43 44 hanno dei valori un po' anomali perché in particolare la riservazione 11 ha un residuo particolarmente abbondante e invece la 43 e la 44 hanno proprio dei valori osservati inusuali rispetto a quella che è la media rispetto a quello che è l'andamento dei punti di tutti gli altri punti questo è il senso quindi volendo anche in base a quello che è il valore di questi di queste misure l'analista può andare a scegliere se valutare cause speciali per queste tre osservazioni e quindi magari scartarle dalla nostra dal modello oppure se tenerle nel modello attenzione perché ogni qualvolta si crea un modello se esistono degli outlier o comunque dei casi speciali che esulano molto da quello che è l'andamento di tutti gli altri punti è decisamente buona idea eliminare quei punti dal modello cioè non utilizzarli per creare il modello perché altrimenti si rischia di andare a creare un modello fortemente falsato ricordate che punti che escano molto dall'andamento medio dell'ensemble totale di tutte le misure rischiano di falsare parecchio il modello risultante quindi massima attenzione a questa tabellina che riporta quelle che sono le osservazioni inusuali perché se l'inusualità è particolarmente elevata conviene evitare di rischiare di creare un modello particolarmente strampalato per poi eccoci arrivare al risultato finale che è la nostra shelf life estimation quindi il vero e proprio studio di stabilità c'è un riassunto allora abbiamo un lower specification limit che è 90 abbiamo messo noi come ipotesi del nostro studio e poi abbiamo una spiegazione di shelf life vedete è il periodo di tempo nel quale si può essere confidente al 95% che almeno il 50% della variabile risposta è al di sopra del limite di specifica inferiore almeno il 50% ecco qua è una particolarità attenzione a cosa state andando a indagare perché qua parliamo di almeno il 50% prima ancora di guardare i numeri questo 50% deriva dal fatto che nelle opzioni stiamo utilizzando il 50% quindi Minitab sta rifacendosi a un modello normale infatti vedete che vi dice siccome lavora con i percentili il 50esimo percentile corrisponde alla mediana ok e lo vuole far corrispondere anche alla media quindi sta lavorando in un contesto in cui media e mediana corrispondono ovvero una perfetta assunzione di normalità tenete conto anche di questo questa è l'opzione che di default Minitab sceglie qualora il batch sia un fattore fisso il batch come fattore fisso comporta questa scelta di default che voi potete anche bypassare e scegliere l'usuale 95% ok quindi andare a scegliere voi il percentile a cui riferirvi se qua avessimo scelto 95 per intenderci la risposta qua sarebbe chiaramente cambierebbero i numeri ma la risposta sarebbe il periodo di tempo in cui puoi essere confidente al 95% che almeno il 95% della risposta è al di sopra del limite inferiore di specifiche ok questo è il senso ora il perché con il batch scelto come fattore fisso Minitab proponga il 50% andrebbe a ricadere in quella che è una valutazione del metodo matematico che viene utilizzato per eseguire questa analisi noi nel webinar non entriamo mai nel contesto dei metodi matematici per renderli più fruibili per qualcosa di veloce per un'analisi veloce per essere up and running con il metodo in fretta senza troppi problemi però tenete conto che la motivazione deriva da lì ma voi potete cambiare questo valore tranquillamente senza commettere errori di metodo ok come sempre Minitab propone dei valori che sono un consiglio e tipicamente sono per carità dei consigli assolutamente ragionevoli ma voi potete cambiare quindi veniamo poi ai valori vedete per ogni batch c'è una shelf life stimata quindi in pratica che va letto in termini di mesi poiché la variabile tempo in questo caso era espressa in termini di mesi quindi qua parliamo che l'otto 1 ha una shelf life una stability stimata in 83 mesi circa vedete però che l'otto 3 il batch 3 ha una shelf life molto più bassa scusatemi il 2 ha una shelf life di 54 mesi e poco più ora poiché questo valore è il più basso dei 5 batch fra i 5 batch la overall shelf life estimation quindi la stabilità overall quella che si può considerare in generale come stima per tutti i batch e per la nostra produzione è la più bassa dobbiamo prendere la più bassa non possiamo fare i furbi qua e prendere la più alta quella che statisticamente è corretto prendere in questo caso è la più bassa che troviamo quindi 54 quindi la stabilità che possiamo aspettarci con un valore di specifica inferiore pari a 90 90% di concentrazione del principio attivo del farmaco è 54 54 mesi virgola 79 questa è la nostra overall shelf life estimation quindi abbiamo visto come leggere la sessione ma ricordate Minitab ci ha prodotto anche dei grafici questa in particolare è la shelf life plot per tutti i lotti vedete che non per niente Minitab va a evidenziare quella che è la shelf life a 54 mesi vedete eccola qua e viene riportato sul grafico anche quello che è l'over specification limit che è 90 l'abbiamo impostato noi mentre invece 54 viene calcolato da Minitab qua vengono riportate le 5 rette di regressione calcolate da Minitab vedete quello che possiamo andare a evidenziare su queste rette è che evidentemente il batch 1 8 1 come abbiamo visto anche della sessione peraltro è quello che ha un decadimento un deterioramento del principio attivo minore più lento nel tempo vedete infatti la pendenza è minore mentre invece abbiamo che il lotto 2 ok anzi scusate il lotto 3 la differenza è veramente minimale ma vedete che sta andando a intersecarlo per poi scendere il lotto 3 è quello che ha la 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 deprivabilità maggiore torniamo un attimo sulla sessione perché è la deprivabilità maggiore perché vedete perché la pendenza è la pendenza maggiore fra le 5 andiamo a vedere se questo effettivamente ci torna anche numericamente ecco qua le nostre rette di regressione per il batch 3 abbiamo che il coefficiente angolare in effetti è 0 1 6 3 ed effettivamente si è la più pendente vedete molto simile a quella del batch 2 che effettivamente anche graficamente si somigliano ma questa è la più pendente come interpretare il coefficiente angolare di queste rette di regressione ma banalmente prendiamo per esempio l'esempio dell'8 3 il coefficiente angolare ci dà una misura della percentuale di cui diminuisce la concentrazione di principio attivo ogni mese ovvero per esempio per il batch 3 ogni mese la concentrazione di principio attivo diminuisce dello 0,163% questa è l'idea mentre invece il valore dell'intercetta di queste rette di regressione ci dà una misura del valore di concentrazione al momento 0 quindi all'inizio e se torniamo ai grafici vediamo che per esempio la la 3 in effetti è quella che aveva il maggior valore di concentrazione all'inizio in base alle rette di regressione chiaramente quindi questo è il senso del grafico che vi viene reso avremmo potuto scegliere di avere un grafico separato oltre a questo che li rimette tutti insieme con gli intervalli di confidenza vedete sono questi sono questi tratteggiati potevamo avere un grafico separato per ciascuno dei 5 lotti esiste poi un residual plot ora attenzione il residual plot che se ci fate caso come utilizzatori di minitab vi renderete conto che viene prodotto quasi sempre da minitab è un insieme di grafici molto importante voi non potete mai creare un modello fare un'analisi e limitare il risultato dell'analisi voi dovete sempre controllare che ciò che avete fatto sia corretto che non ci siano anomalie che rendono il modello o l'analisi fatta del tutto non significativa ovvero puri numeri non attendibili in particolare i grafici dei residui sono importanti perché vi danno un'idea del fatto se ci siano o meno particolari anomalie a livello di dati e di modello innanzitutto dovete considerare la probability plot dei residui questi devono sempre trovarsi con un andamento il più possibile normale in questo caso probability plot non sembra violato particolarmente anche l'istogramma al di là di questa barra centrale che è un po' forriante sembra avere comunque una forma assimilabile a quella che può essere una normale chiaramente non è esattamente una normale questo si vede ma tant'è che lo possiamo accettare in combinazione con il probability plot poi abbiamo un versus order questo non deve mostrare con trend non deve mostrare ciclicità particolari in questo caso è un versus order che ci sembra soddisfacente e poi c'è un versus fits che anche questo deve mostrare i punti distribuiti in modo randomico e uniforme attorno allo zero e questo avviene c'è un ammassamento dei punti nella parte destra del grafico ma questo è normale perché abbiamo più misurazioni in corrispondenza di valori alti della valore risposta e questo lo sappiamo ma lo vediamo anche da quest'altro grafico vedete i valori sono molto più concentrati in alto vedete piuttosto che scendendo nel valore della variable risposta e questo si riflette perfettamente nel versus fits ma va bene perché l'importante è che siano distribuiti in modo uniforme attorno allo zero idem per il versus order quindi questo è un po' il senso sembrano tutti a posto quindi possiamo accettare il modello di regressione che abbiamo creato e rimanere confidenti che il nostro modello sia un modello statisticamente matematicamente accettabile e significativo quindi sempre massima attenzione a quelle che sono le condizioni al contorno del lavoro che stiamo facendo cioè consideriamo sempre le analisi che vengono eseguite a contorno del vero e proprio modello o della vera e propria analisi che stiamo eseguendo in particolare mai trascurare l'andamento dei residui ok benissimo adesso cerchiamo di capire invece quel discorso dei batch che siano fissi o random il discorso il concetto di batch che sia un fattore fisso o un fattore random va interpretato in questo modo allora andiamo anzi scusate riapriamo questa casella andiamo nell'help che come sapete in Minitab è sempre contestuale e andiamo a vedere praticamente andiamo a vedere display transform fixed versus random match vedete ecco qui potete trovare una spiegazione degli esempi di che cosa voglio dire però banalmente in questo caso l'abbiamo considerato fisso perché avevamo 5 linee di produzione e per ciascuna linea di produzione abbiamo preso un lotto e quindi fondamentalmente in questo senso abbiamo considerato il batch come un fattore fisso viceversa il batch diventa un fattore random se per esempio abbiamo guardate qua per esempio 30 linee di produzione ma noi andiamo a prendere i dati in modo casuale da 8 linee di produzione ok quindi abbiamo tante linee di produzione ma noi ne selezioniamo a caso un sotto insieme perché non possiamo andare a eseguire per motivi di tempo o di soldi insomma quindi solite considerazioni più che ragionevoli che avvengono nel mondo reale non mi posso permettere di eseguire test su tutte le linee di produzione quindi ne seleziono un sotto insieme in modo casuale ok e su quelle vado a eseguire i miei test in questo caso il batch viene considerato un fattore random cambia un po' la situazione Minitab a seconda che voi abbiate il batch come fattore fisso o come fattore random utilizza un metodo leggermente diverso sarà sempre un modello lineare sarà sempre quindi una regressione ma userà dei metodi a contorno di tutto ciò un po' diversi quindi cambia il metodo cambiano alcuni aspetti del metodo matematico che andate a utilizzare in particolare i parametri il senso è semplicemente questo quindi nella mondo reale considerate se avete n linee di produzione e prendete batch da n batch uno da ciascuna linea di produzione il batch non è un fattore random semplicemente perché non state scegliendo a caso i batch sulle linee di produzione quelle sono e quelle utilizzate viceversa se ne avete tante e ne utilizzate a caso solo un sotto insieme allora batch è un fattore random e ora noi andremo a vedere come cambia l'analisi ma vedrete che cambia poco dal punto di vista pratico nel caso in cui si abbia il batch come fattore random quindi facciamo intanto creiamoci un nuovo progetto anzi scusate prima andiamo a vedere che cos'è successo se andiamo in regression stability study si è attivata la voce predict perché ora in effetti Minitab ha calcolato un modello quindi può utilizzare questo modello per eseguire una predizione se facciamo predict vedete innanzitutto possiamo vedere il modello il modello utilizzerà questi termini e Minitab può fare l'assunto dei termini che verranno utilizzati e noi possiamo andare a eseguire una predizione per esempio al mese 60 che ne sarà del batch 1 al mese 60 sempre che ne sarà del batch 2 per esempio ok facciamo ok e sulla sessione ci troviamo le nostre predizioni in pratica stiamo utilizzando il modello di regressione i modelli di regressione scusate per eseguire delle predizioni quindi Minitab mi ricorda che siccome ho citato il batch 1 e il batch 2 queste sono le rispettive linee di regressione equazioni di regressione che sono state stimate da Minitab quindi utilizzeremo questi due modelli per le due rispettive predizioni in particolare per il batch 1 utilizzeremo questa equazione per il batch 2 quest'altra quindi per il mese 60 batch 1 ok queste sono le variabili questi i valori che gli ho dato Minitab mi prevede un valore di concentrazione del principio attivo pari al 94% abbiamo poi un intervallo di confidenza e anche un altro intervallo di confidenza che vedete è un po' diverso normalmente ci sta per confidence interval ok qua invece abbiamo un prediction interval PE sempre al 95% qual è la differenza? l'intervallo di confidenza si riferisce alla media della popolazione quindi alla media che potremmo trovare la media ok abbiamo un intervallo di confidenza del 95% che cada realmente entro questo intervallo mentre invece relativamente alla singola misura noi abbiamo una prediction interval del 95% che ci dice in sostanza che la singola misura abbiamo un 95% di probabilità che ricada in questo intervallo perché ricordate che stiamo utilizzando un modello un modello che ci dice io ti stimo il 94,4% di concentrazione di percentuale di concentrazione ma ricordiamo che questo è un fit cioè nel senso è il valore fittato da un modello in realtà siamo confidenti al 95% che il valore ricada entro questo livello vedete che il prediction interval è sempre maggiore del confidence interval perché un conto è andare a predire un terreno di confidenza per la media e un conto è andarlo a predire per la singola misura c'è più incertezza ok comunque abbiamo una predizione per il mese 60 e batch 1 e una predizione per il mese 60 e batch 2 che è molto più basso vedete 90% siamo al pelo del nostro limite inferiore perfetto c'è poi una notazione che vi dice che questi valori comunque sono un po' inusuali rispetto ai livelli dei predittori utilizzati nel modello semplicemente ecco considerate sempre gli accorgimenti e suggerimenti che Minitab vi dà ora attenzione io potrei utilizzare questo modello per fare la seguente cosa ovvero io avevo i miei mesi che andavano fino a fino a se non sbaglio 48 qua mi sono spinto a 60 me l'ha fatto fare corretto? me l'ha fatto fare ho qua i numeri davanti ai miei occhi è anche vero però che mi sta dicendo che questi sono punti estremamente inusuali rispetto ai livelli utilizzati per creare il modello che cosa vuol dire? capiamolo meglio noi in realtà abbiamo eseguito misure fino al mese 48 e ora stiamo facendo una predizione al mese 60 questo si può fare? ora certo si lo posso fare ma perché no in fin dei conti ricordiamoci che abbiamo delle rette quindi posso spingermi avanti quanto voglio quanto voglio assolutamente peccato però che sto seriamente forzando la mano su quello che è il mio modello ovvero il buon suggerimento è di non usare mai mai un modello di regressione per per predire valori al di fuori di quello che è il dominio su cui abbiamo raccolto dati per creare il modello siccome il modello l'abbiamo creato su valori misurati al massimo a 48 mesi è un rischio enorme utilizzare il modello per eseguire predizioni oltre i 48 mesi e più ci allontaniamo dai 48 mesi più è rischioso cioè l'ho fatto a 60 ero abbastanza vicino al limite di 48 ma se io volessi fare una predizione a 120 mesi beh sarei un pazzo starei facendo fondamentalmente solo numeri numeri casuali senza nessuna reale attendibilità matematica perché perché io non ho idea se effettivamente a quella distanza di tempo il mio modello continua ad avere ragionevolmente un andamento lineare non ne ho la più pallida idea perché non ho raccolto punti sperimentali quindi punti reali per vedere se effettivamente a quella distanza di tempo l'andamento era ancora lineare magari a quel punto mi ritrovo un decadimento del principio attivo che ha un tutt'altro andamento magari esponenziale non posso saperlo quindi per quanto la matematica mi permette indubbiamente utilizzare il modello su tutto l'asse reale quindi posso fare predizioni a qualsiasi valore il mio modello realisticamente parlando e parlando in termini di usabilità di un modello matematico nella realtà non ha questa estensione di tempo assolutamente devo limitarmi a intervalli che possibilmente stiano all'interno del dominio che ho testato quindi da 0 a 48 o che comunque non se ne discostino troppo perché io non ho idea di cosa succeda là fuori al di fuori del dominio che ho seriamente testato dal punto di vista sperimentale questo non vale solo per i modelli di stabilità ma vale per qualsiasi modello che voi possiate andare a costruire quindi qualsiasi modello di regressione in particolare benissimo ora facciamo un nuovo progetto new minitab project facciamo ok non saldiamo nulla nei file di esempio in modo tale da poterli sempre ritrovare tali e quali andiamo ad aprire un worksheet sempre nel minitab sample data folder che però questa volta si chiama shelf life random facciamo apri anche in questo caso abbiamo un certo numero di record in questo caso abbiamo otto lotti selezionati in modo del tutto casuale fra un numero totale di lotti che è pari a 30 quindi 30 è maggiore di 8 noi abbiamo 8 batch non potevamo selezionare tutti e 30 ed eseguiamo delle misurazioni esattamente come prima però in questo caso il batch non è un fattore fisso ma è un fattore random perché? perché abbiamo selezionato in modo casuale 8 batch su 30 linee di produzione ok quindi è un fattore randomico abbiamo come prima la nostra colonna con i valori misurati in questo caso i batch sono 8 il tempo su cui abbiamo eseguito la misurazione è sempre 9 9 per 8 72 ed eccoci 72 anche in questo caso abbiamo una misura per ogni batch per ogni mese in questo caso andremo a fare stat regression scusate stability study stability study la risposta è sempre la percentuale di farmaco il time è sempre il mese batch è sempre batch prendiamo sempre questo 90 come valore di specifica andiamo nelle opzioni però e qui il batch non è più un fattore fisso ma è un fattore random vedete che automaticamente mi viene cambiata la finestra sotto Minitabuse è di default a questo punto il 95esimo percentile l'alpha level per scegliere il modello è sempre 025 suggerimento non andate a cambiare questo valore perché è un buon valore di riferimento per l'alpha level in questo caso facciamo ok nei grafici facciamo sempre 4 in 1 facciamo ok e facciamo ok ancora ecco che ci viene eseguita la nostra analisi ingrandiamo la sessione vediamo l'output anche in questo caso vedete l'output è molto simile però il batch è un fattore di tipo random questi sono i suoi livelli model selection con un alfa level di 025 vedete che anche in questo caso la differenza ha un piveglio di 0059 è inferiore l'alpha level e quindi i termini nel modello sono tutti e tre il mese il batch e il termine misto anche in questo caso scusate anche in questo caso abbiamo un po' di tabelle che danno informazioni aggiuntive in particolare qui vediamo che sono tutte significative per quanto riguarda sia il batch che il mese per batch sono significativi per quanto riguarda la variabilità totale ok e abbiamo un model summary che presenta ancora s e r square r square adjusted vedete che vanno interpretati esattamente come prima abbiamo poi una tabella dei coefficienti e questi sono i coefficienti che vengono utilizzati da Minitab per creare l'equazione di regressione ora in particolare abbiamo che l'equazione di regressione che non viene scritta esplicitamente qua in sessione ma l'equazione di regressione che viene creata come modello è così fatta è percentuale di drug percentuale quindi variabile risposta uguale 100,06 meno 0,138766 per mese quindi queste sono l'intercetta e il coefficiente angolare dell'equazione di regressione che andremo a utilizzare perfetto poi abbiamo questa random effect prediction allora questo loop sta per best linear unbiased predicted fondamentalmente per ciascuno dei batch si può avere una equazione di regressione per il batch e perché la dobbiamo avere? perché abbiamo visto che il termine misto non è un termine trascurabile e quindi il termine misto viene considerato nel modello è per questo motivo che possiamo andare a costruire una retta di regressione un modello di regressione per ciascuno dei batch e per costruirlo l'equazione viene fatta in questo modo viene preso vengono presi i termini generali quindi questo 100,06 e questo meno 0,138 e per esempio per il batch 1 l'equazione di regressione è fatta così variabile risposta uguale a 100,06 più 1,35 che è questo valore per il batch 1 meno un coefficiente angolare che è meno 0,138 eccetera eccetera a cui viene sommato questo 0,0062 e il risultato di questa somma algebrica viene moltiplicato per mese e ci dà il nostro coefficiente angolare questo è il modo in cui si possono andare a costruire tutte le altre equazioni di regressione ripeto questa compare perché abbiamo visto che il termine misto è significativo e non può essere escluso dal modello quindi di fatto deve poter essere considerato e questo è il modo in cui viene considerato appunto considerando una retta per ciascun batch c'è poi una tabella per le osservazioni inusuali vengono riportate qua e vale lo stesso discorso di prima quindi se ci sono misurazioni molto strambe è meglio escludere dalla creazione del modello per non falsare il modello stesso e poi c'è una shelf life estimation che è il nostro risultato finale viene ottenuto esattamente come prima vedete che è un valore basso ok cioè nel senso anche in questo caso viene preso il valore più basso possibile però avete visto che avevamo un livello di confidenza del 95% e stavamo usando il 95esimo percentile quindi shelf life uguale il periodo di tempo in cui si può essere confidente del 95% che almeno il 95% della risposta sia al di sopra del limite inferiore di specifica e questo shelf life per tutti i batch viene valutato in 53 mesi virgola 18 c'è poi un grafico chiaramente e in questo caso vedete vengono risultano praticamente coincidenti qua c'è un'ulteriore informazione che non stiamo andare a eviscerare in questo contesto c'è comunque un grafico che va a darci un informe che va letto esattamente nello stesso modo di prima banalmente abbiamo il 90% che abbiamo imposto noi e c'è shelf life che viene invece calcolato da minitab c'è il limite inferiore vedete c'è un limite inferiore di 90% e c'è un livello di confidenza inferiore che viene considerato notate che è non la retta bensì come anche nel caso precedente il limite di confidenza che va a determinare il punto che ci fornisce la shelf life quindi dove il limite di confidenza inferiore va a incrociare la retta y uguale 90 in quel punto di incrocio si tira una retta verticale che ci dà il valore della shelf life stimata si può andare a vedere il grafico dei residui vedete che in questo caso non ci piace moltissimo è un po' meno attendibile l'assunzione di normalità dei residui e in questo caso si potrebbe andare a fare un controllo ulteriore sui residui controllo che potreste trovare qua anziché residual for plus fare marginal regular andare a fare un conditional regular per discernere questa cosa bisognerebbe entrare un attimino meglio in quella che è la teoria di questo aspetto volendo Minitab vi può dare un suggerimento in questo vedete qua ci sono tutte le informazioni del caso su come andare a scegliere un 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 grafico piuttosto che un altro ok di fatto ora non entriamo in questo contesto però comunque in generale i grafici dei residui ci dicono che salvo qualche dubbio sulle code vedete che tendono a sfuggire dall'assunzione di normalità salvo qualche dubbio sulle code possiamo fondamentalmente ritenerci soddisfatti quindi in particolare questi due grafici del versus order versus marginal fits sono ok il discostamento della normalità non è così enorme e quindi possiamo ritenere il nostro modello come attendibile torniamo un attimo a un ultimo aspetto andiamo in regression stability study vedete che quando si fa create stability study worksheet minitab vi può dare un aiuto a creare proprio un foglio di lavoro su cui andare a registrare i valori vediamo velocemente come fare supponiamo che si vogliano testare nove intervalli temporali l'unità di tempo è il mese ma io potrei scrivere quello che voglio ora minuto anni giorni settimane quello che voglio il numero di batch in questo caso facciamo per esempio che sia 5 e ricreiamo per esempio il foglio di prima del primo caso il numero di sample per ogni batch e ogni momento è 1 perché abbiamo fatto una misura per ogni batch per ogni intervallo options qua è come vogliamo andare a mischiare i dati quindi possiamo metterli non randomizzati quindi tutti in ordine piuttosto che questa di default è la scelta forse più consigliabile facciamo ok e Minitab vedete ci genera un bel foglio di lavoro in cui andare poi in seguito a misurare aggiungere una colonna dove per esempio andremo a misurare i nostri valori però vedete che ha creato il run order il mese e poi i batch messi in ordine casuale quindi abbiamo chiesto qua noi abbiamo il foglio di lavoro pronto per un totale di 45 record e non ci resta altro da fare che seguire quest'ordine e andare a fare le corrispondenti misurazioni quindi banalmente ci crea il foglio di lavoro notate che potremmo dare un nome differente ai batch quindi a piuttosto che termini estesi a caso cioè quello che vogliamo così come i tempi possiamo definirli esattamente come ci pare piace quindi possiamo creare un foglio di lavoro con tutte le estensioni che riteniamo opportune bene con questo io vi ringrazio per aver seguito fino a qui il webinar spero di riavervi con i prossimi appuntamenti c'è la lista aggiornata dei webinar fino a dicembre che potete trovare o se non è ancora stata pubblicata troverete nei prossimi giorni sul sito gmsl.it e vi auguro una buona giornata grazie a tutti